Il controllo di testa è importantissimo, possiamo fare uno, uno, due, io faccio una presa così, vedi? Ok, e pian piano ti sposto, vedi? Sono qui, poi cambio posizioni, vedi? Vengo qui, rinforzo le mie braccia e pian piano vengo qui, vedi? Poi da queste posizioni posso prendere così, andare qui e soffocare, oggi lavoreremo anche questo in movimento e adesso testa, mi sposto le cinture, poi vedi? Hop, ho preso e pian piano ti spingo, poi pian piano posso uscire anche, io nero, perché, vedi? Ok, ok. Adesso poi, fai piano, con me sposto, fratello, con me sposto, poi vedi? Ok, poi fai, fai legga, ok? la città la città 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 noi siamo in parc a Corva se stia un biserica da fa 5 minuti città dup'a biserica città città perché prima vieni fare con noi perchè pensavo facissimo la vera poi sono identificato ancora una volta guarda prima questo braccio uno e poi vengo da qui op e poi questo alzi op bene vai da sinistro una volta adesso adesso dobbiamo tirare tutti presi pian piano in testo rinforzato senti questa non usa pollici ganci diciamo più stretto e provare girami pian 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 spingi con questa giusta spingi io voglio liberarmi e tu vai 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 era troppo pesante si si si, pian piano dai da qui aspella presa e pian piano vado hop e anche prendi subito braccia vedi sotto controllo braccia subito puoi schiacciare pian 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 fin qui fai tutto leggero non perdi energia trovi sempre rilassato no 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 questo vieni sotto spingio ah ok stesa è fatta si e basta si 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 devi unire i bracci e basta adesso non usiamo forse perchè non siamo riscaldati per non tirare tu ormai hai fatto un pochino io invece l'obiettivo non devi facciare va a sentire il movimento non fai piano vedi non vicino al gommico secondo non puoi fare vicino al polso ah qua si si qua uno due ok 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 adesso sentirai subito che sarai molto più vedi si non puoi girare e gira oh 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 e non non che devi girare subito per fare schiena anche anche laterale se cadi avversario laterale per te va bene vedi si 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 aspetta vedi tiene sotto controllo il mio braccio si puoi già soffocare aspetti fai basta una cosa mi ho dimenticato si mi ricordavo quando ero si si guarda uno due vengo laterale io non vado troppo lontano ah scusate 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 hai capito anche quando in macchina guardo così si cosa si facciamo qui per mostrare a tutti i nostri spettatori da qua piano piano ok schiaccia bene la tirale ho solo caduto la tirale e piano piano cambio posizionale schiacomo chiuso schiacomo